Musica 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 Noi erime zittete e erime contente Ma boh Io, da me parte, avevo conosciuto la vera, avevo conosciuto il nostro paese occupato, un paese italiano, non si poteva tanta sorta, c'era tanta libertà e a sera c'era un confronto, mica come qui del covid, un confronto, un po' di due sentire i voti italiani a fare il torno del paese, c'era un'interessa a saccare i porti, i valcocchi, dovevano essere l'uomo, perché potevano tirare. A me, a me cittadina, a me cittadina in paese, ciò che mi arristerà sempre, sinché campo, mi vengo sempre a città da qui, contenta e bella. A maniera riviva, a maniera riviva, con le più alle stesse, è differente, cioè di chi piace, a qui di chi, i campi navali, a me mi piace il minimo, sicuramente, ma boh, è così, un regretto su tempo, di quando riuscite da. Si riprende, per certi affari sì, per certi affari no. La vita dei roni è più facile lavare, soffrire i roni tanti, tutto il lavoro che ti tagliano a fare, città, di fare, lavorando in casa e fuori, allora ancora il razio è che ti ha cambiato. Allora, i giovani vanno a vedere che sono struviti e tutto, e cercano di installare in Corsica. E' un avanzamento importante questo qui. Ancora il razio, a parte se di partire tutti, la farò andare, mi immaginavo che hanno prenduto coscienza che ciò sta con di sé, si può stare e si può lavorare, mica come prima, sicura, vedo meglio, ma trovo l'unità, trovo l'unità di stacce. Beh, un messaggio che taglio è che ciò che ti tenga una speranza. Allora. Grazie a tutti